Pianti e sorrisi in Serie B con il rosso-nero che va di moda, il bianco-azzurro che stinge, si lecca le ferite, mette in fila il quinto stop in cinque gare, davvero troppo. Grande Virtus al partegno di Avellino con i numeri che parlano chiaro, 1-3 senza storia, 7 punti nel girone di ritorno, terza piazza in solitaria posizione, atteggiamento tattico da Camaleonti. Quando il 4-3-3 rischia di fare fatica ecco il 3-5-2 redditizio in grado di frantumare la tana dei lupi che proprio in casa avevano retto un ritmo da Serie A. Si continua a parlare di salvezza in casa rosso-nera alla vigilia di due partite interne di fila, in caso di bottino pieno alla quota per la permanenza rimarrà solo l'ultimo passo, poi ci sarà da divertirsi, inutile girarci attorno. E in Lanciano la grande rivelazione del torneo, l'ultima sugli scudi Marcel Buchel, un colpo di testa a liberare, poi il gol, due assist, ancora palle recuperate, inserimenti, contrasti, sontuosa prestazione, 10 in Paggella, esteso poi a tutta la rosa. Di contro è ancora crisi all'Adriatico Cornacchia dove il Pescara cede il passo al Varese di Carmine Gautieri, 2-1 per i Lombardi, Pescara che parte benino, poi subisce e rimette in piedi la partita, riesce a perderla. La società si guarda attorno, riflette e chiede conforto alla squadra che sceglie ancora Pasquale Marino. Niente ritiro ma a Bari, seppellito a Modena sotto 4 gol, occorrerà la prova maiuscola, altrimenti bisognerà cambiare per forza e senza ultime spiagge. La squadra è molle, sembra smarrita mentre la classifica perde slancio, bisognerà solo salvarsi e in caso di altro stop scegliere un allenatore da battaglia. Piace Cersei Cosmi, Zeman non è disposto, la patata bollente è proprio bianco-azzurra.